23.49, buonasera, ultima edizione del nostro telegiornale, naturalmente le notizie su Genova, sulla tragedia di Genova sempre in primo piano. Ma prima di vedere le notizie della giornata ci colleghiamo in diretta con uno dei nostri inviati, Paolo Colombo, perché c'è stato un allarme stasera proprio nel tratto del Ponte Morandi che sovrasta le case di Via Porro. Buonasera Paolo, è così? Sì, buonasera, ti confermo Andrea, l'allarme che è scattato dopo le 22.30 e praticamente cosa è successo? Che ci sono state delle vibrazioni nella parte del Ponte sovrastante via Walter Fillac e quindi immediatamente, se la regia può mandare le immagini nel frattempo, immediatamente è scattato l'allarme e c'erano delle persone che stavano entrando nelle abitazioni, quelle che fanno avanti e indietro per recuperare le loro cose e è stato dato l'allarme via tutti, via anche i pompieri, via Vigili del Fuoco. Abbiamo chiesto, conferma pochi minuti fa, un funzionario dei Vigili del Fuoco e ha detto la zona è pericolosa, fino a domani mattina là dentro non potrà entrare nessuno. Quindi fuori tutti dalla zona rossa, queste vibrazioni sono le prime che vengono sentite da quando è crollato il Ponte Marte di scorso, quindi è il primo serio allarme. Non vogliamo creare nessun tipo di allarmismo, ma era giusto dare questa notizia perché comunque è la notizia più grossa della giornata. Adesso sono tutti fuori anche i Vigili del Fuoco, possiamo vedere il servizio intanto che ha realizzato la nostra inviata Maria Covotta perché oggi c'è stato il primo vero sopralluogo dei tecnici del Ministero, di quelli delle autostrade, nella parte ad ovest, quindi non quella dell'allarme di stasera, quella dell'altra parte verso Ponente e sentiamo cosa ha da dirci Maria Covotta. La Procura di Genova ha autorizzato la messa in sicurezza di questa parte del viadotto. Gli accertamenti sulle cause del crollo entrano nel vivo e andranno avanti per giorni, non solo con ispezioni dirette ma soprattutto con le analisi scientifiche delle macerie, perché da ogni singolo pezzo di calcestruzzo, ferro o cemento può arrivare una risposta utile per capire la dinamica del disastro e quindi anche l'origine. Secondo Roberto Ferrazza, presidente della commissione ispettiva del Ministero dei Trasporti, ancora non si sa cosa si sia rotto per primo. Potrebbe essere stato uno strallo, una delle strutture diagonali che reggono il ponte, ma forse potrebbe avere ceduto una mensola, una delle enormi lastre su cui appoggia l'impalcato, cioè la strada. È stata una rottura a provocare un movimento della struttura non equilibrato, il ponte si è storto e poi è caduto, rivelerebbero i primi rilievi. Anche le carte potranno dare risposte a questo disastro, documenti sullo stato del ponte, sui lavori fatti e in programma, come quelli che sarebbero dovuti iniziare in autunno sul pilone 9 e 10, la gara d'appalto conclusa a giugno su un progetto nato tre anni fa. Lo Stato non può abdicare alla funzione di controllo, ha detto in un'intervista al procuratore capo di Genova, la sicurezza non può andare ai privati. Intanto le prime 11 famiglie entreranno domani nelle case messe a loro disposizione nel quartiere di San Biagio. Entro il 20 settembre altre 20 saranno pronte per gli sfollati, costretti ad abbandonare le proprie abitazioni sotto il ponte Morandi. Intanto sono iniziate le ispezioni dei tecnici di autostrade che insieme ai membri della commissione voluta dal Ministero delle Infrastrutture osservano, camminano sul troncone lato ovest del viadotto sul Polcevara, una qualsiasi anomalia visibile ad occhio nudo, increspature sull'asfalto o segnali bruschi di distacco dei giunti lungo la strada. E allora grazie a Paolo Colombo, naturalmente per tutti gli aggiornamenti vi rimandiamo all'edizione delle 7.30 del telegiornale. Il governo è con Genova e con i genovesi, con gesti concreti. Il presidente del Consiglio Conte usa Facebook per ribadire le priorità. Un fondo di 28 milioni e mezzo, oltre i 5 stanziati all'indomani della tragedia per la viabilità alternativa, il sistema dei trasporti e le case a chi ha dovuto abbandonare le abitazioni. Il governo guarda anche oltre l'emergenza. Il sottosegretario Palazzo Chigi, Giorgetti, ha lanciato un piano per le infrastrutture, un'operazione di messa in sicurezza di strade e ponti, ma anche di scuole ed edifici a rischio a causa del dissesto idrogeologico. Un'iniziativa che ha già incassato l'appoggio di Forza Italia. Sempre più incandescente lo scontro Italia-Malta sulla nave Diciotti, con oltre 170 migranti a bordo, che attende un porto nel canale di Sicilia. Salvini chiama in causa l'Europa e minaccia, se non ci aiuterà, li riporteremo in Libia. In serata interviene anche la Farnesina. Sentiamo. Il ministro dell'interno Salvini, in assenza di una risposta dell'Europa, minaccia di riportare in Libia i 177 migranti a bordo della nave Diciotti, soccorsi in Acque Sar Maltesi il 14 agosto. Da giorni l'imbarcazione della Guardia Costiera italiana è in rada davanti al porto di Lampedusa, in attesa di conoscere il porto di sbarco. Ma in serata una nota della Farnesina informa che della questione è stata investita ufficialmente e formalmente la Commissione europea. Il governo ritiene indispensabile che la Commissione assuma direttamente l'iniziativa vocata a individuare i paesi europei disponibili ad accogliere le persone salvate in mare. Il ministro delle infrastrutture, Toninelli, ha definito il comportamento di Malta inqualificabile e meritevole di sanzioni. Il ministro dell'interno, Maltese, Farruggia, in un tweet aveva indicato come unica soluzione lo sbarco in un porto italiano, quello di Lampedusa. Ad una soluzione diplomatica sta lavorando, come dicevamo, il ministro degli esteri, Moavero Milanesi, che ha invocato un'azione decisa che renda strutturale l'approccio di condivisione degli oneri da parte dei paesi membri dell'Unione Europea. Chiudiamo con il calcio. Dopo gli anticipi di ieri, oggi si sono giocate altre cinque partite della prima giornata di Serie A, sconfitta l'esordio per l'Inter col Sassuolo, vince la Roma sul Torino. Aveva ragione Eusebio Di Francesco a dire che l'abbondanza è un problema da gestire con piacere. Al debuto sul difficile campo del Torino, già loro si portano via tre punti proprio grazie ai cambi effettuati nel finale di gara. Tre pali contro uno dei Granata, le parate di Olsen, oltre a una rete dell'ex Iago Falchi annullata dal bar e costata l'istruzione per proteste di Walter Mazzarri, sono stati il prologo al gol vittoria romanista, merito del giovane Justin Klaivert, capace in pochi minuti di spaccare la partita e servire un assist al bacio a Edin Dzeko, superlativo nel piazzare al volo, il pallone per un gol a suo dire tra i migliori tre realizzati in carriera. Stecca invece rumorosamente la prima all'Inter di Luciano Sballetti, che cade sul campo di un Sassuolo in grass polvere. Decide un calcio di rigore assegnato dall'arbitro Mariani per un fallo in area di Miranda sul di Francesco e trasformato con freddezza da Verani. Nerazzurri arrembanti ma poco lucidi nelle loro forze, con i carri colpevoli di un grave errore sottoporta. Il Sassuolo sfiora per due volte il raddoppio poi nel concitato finale e consiglia a salvare il successo opponendosi all'incornata di De Vrij. L'Empoli festeggia il ritorno in A con il 2-0 che vale la vittoria sul Cagliari, grazie a una rete per tempo di Crunic e Caputo. Ancor più pesante il successo della Spal, che fa suo il derby Emiliano, espugnando Bologna grazie al bolide dello sloveno Kurtic. Rocambolesco 2-2, tra l'altra neopromossa Parma, che spreca il doppio vantaggio con inglese Barilla, facendosi raggiungere dall'Udinese grazie a un rigore di De Paul e alla rete di Fofanà. E domani sera è in programma il posticipo tra Atalanta e Frosinone. Ed è tutto, l'informazione torna come sempre domattina alle 7 con la segna stampa. Grazie per essere stati con noi e buonanotte.